Ergastolo per Marco Gallo, 35 anni, accusato dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, impiegato delle ferrovie della Calabria, ucciso il 24 giugno 2017 a Catanzaro. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Catanzaro. La vittima venne raggiunta da quattro colpi di pistola che ne provocarono la morte immediata. L'accusa di omicidio nei confronti di Gallo è aggravata dalle modalità mafiose. Secondo l'accusa, il killer avrebbe agito per punire Domenico Mezzatesta, fratello di Gregorio, ritenuto dalla cosca Scalise il responsabile dell'uccisione di Daniele Scalise, appartenente all'omonimo gruppo criminale dominante sul comprensorio montano del Lametino. La Corte, inoltre, ha dichiarato Marco Gallo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale e lo ha condannato al risarcimento del danno alle parti civili. Accolta la richiesta di pena invocata dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Pasquale Mandolfino, il quale nel corso della requisitoria aveva sottolineato come nelle intenzioni dell'esecutore dell'omicidio non vi fosse solo l'intenzione di uccidere, ma anche della volontà dell'omicidio di sfigurare e quasi rendere irriconoscibile la vittima, privandola di ciò che meglio identifica qualunque persona, cioè il volto. Gallo, secondo quanto emerso dalla ricostruzione, il giorno dell'omicidio, a bordo di una moto, ha agganciato mezza testa il suo collega all'altezza del comune di Tiriolo, li ha seguiti fino a Catanzaro, ha atteso che prendessero un caffè nel solito bar vicino alla stazione delle ferrovie della Calabria e quando sono rientrati in macchina si è avvicinato al lato passeggero dove si trovava mezza testa e ha fatto fuoco per sette volte prima di allontanarsi.